Dai Powerbank MagSave alla gamma di accessori per i rider, fino alle cover realizzate con bioplastiche compostabili e ai cavi ultra resistenti. Sono solo alcune delle tante novità presentate da Cellular Line con Live the Excellence, un evento organizzato a Reggio Emilia per riunire operatori del mercato, partner commerciali, stampa specializzata e influencer. Una prima edizione che segna anche il ritorno in presenza in uno spazio espositivo dopo due anni di eventi necessariamente digitali di uno dei brand leader del mercato degli accessori per smartphone e tablet, che si presenta a tutti gli interlocutori strategici per lo sviluppo dei progetti e delle attività in cantiere per il nuovo anno da poco iniziato, come ha spiegato Marco Cagnetta, co-CEO di Cellular Line. Cellular Line, come quasi tutte le aziende di settore direi, ha attraversato gli ultimi due anni della pandemia con un po' di apprensione in quanto un po' la chiusura dei negozi, un po' la limitazione della circolazione, ma il fatto stesso che abbiamo operato o meno in mobilità a livello personale ciascuno di noi, dove noi siamo più esposti come produzione, chiaramente ci ha visto soffrire un po' dal punto di vista delle revenue, in generale della nostra presenza, più che altro della nostra performance, più che la presenza. Non essendo invece nulla cambiato in termini di presidio del mercato, vediamo il 2022 come una vera opportunità. Il fatto di tornare non proprio a una normalità, ma a un qualcosa di più simile a ciò che c'era prima, sebbene con delle modifiche sostanziali, ci ispira molto, ci stimola molto, ed è il motivo per cui in questi incontri non parliamo soltanto di prodotti nuovi, ma parliamo soprattutto di idee e di opportunità per allargare la torta, come si suol dire in gergo. Quindi vediamo delle opportunità concrete per aumentare il business. Tra le aree più in vista, quelle dedicate alle cover style, agli accessori per la mobilità, ai prodotti realizzati con materiali sostenibili, la zona audio targata AQL, e infine la sezione ragni con i caricatori wireless realizzati dal designer vincitore del compasso d'oro. Tutti i prodotti protagonisti dell'evento sono frutto del lavoro di analisi e studio costante delle abitudini dei consumatori, oltre che dal monitoraggio continuo dei dati provenienti dai 3.000 punti vendita tra Italia ed estero. Alessio Lasagni, Marketing and Digital Director di Cellular Line. Dal punto di vista delle novità di prodotto, sicuramente l'audio rimane uno dei mercati più dinamici e quindi come vedete alle mie spalle stiamo dando grande spazio al mondo dell'audio, inteso come sia audio classico, quindi auricolare a filo, auricolare a bluetooth, mono e stereo, ma anche sicuramente alla categoria che più sta dando soddisfazioni all'azienda in termini di crescita in assoluto sul mercato, che è il True Wireless, quindi il vero e proprio auricolare senza fili. Stiamo anche presentando molte novità nel mondo della carica, questo segmento molto dinamico trainato dall'effetto unbundling, cioè dal fatto che Apple e Samsung hanno scelto di togliere il caricabatterie dalle confezioni, quindi c'è sicuramente un nuovo dinamismo su questo mercato, Cellular Line si presenta con un'offerta molto specializzata, sia di offerta classica, quindi diciamo così il caricatore che tutti conosciamo, quello che si attacca alla presa al muro, ma anche nuove modalità di carica, come il mondo del wireless charging e in particolare per gli utilizzatori iPhone il MagSafe. Filo rosso dei nuovi prodotti è la sostenibilità, uno dei punti saldi della strategia del gruppo. Oltre l'offerta di prodotti e accessori, infatti, c'è anche l'obiettivo dichiarato da Cellular Line di valorizzare modelli di business e pratiche aziendali per diventare un'organizzazione con impatto positivo dal punto di vista ecologico e sociale, unendo così la capacità di incontrare le esigenze del mercato con l'intenzione di rappresentare un esempio etico e responsabile in sintonia con ambiente e società.